Siamo qui con Elenia Scrapin e Laura di Toma, donne eccezionali del giud italiano che vi vogliono mandare un saluto. Allora ragazzi dell'Athletic Center, Reggio, Calabria, un salutone e da parte mia un grande bocca al lupo per il vostro futuro, che ne avete tanto davanti. Un saluto anche da parte mia e dico al vostro maestro di avere questa passione, di rimanere con questa passione e di trasmettervi questa passione che ha voi. Vi salutiamo, ciao!